buongiorno ragazze ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video e chiericcio come state spero bene allora questo video chiericcio per parlare un po con voi ma anche perché mi andavamo di parlare un po con voi niente se sentite super fallio cose strane perché c'è la finestra aperta e io crepo di caldo altrimenti niente allora permetto che non so quanto riuscirò a fare video perché è un impresa un po ardua per me fare video ultimamente e quindi non so quando riuscirò a fare video quindi niente se a voi fa piacere che continuo a fare video continuo a fare video per quanto riguarda invece video smr li faccio perché mi piace fare i video smr ma non è che mi fanno impazzire i video smr però li voglio fare se sentite una buona strana e mi ha una che tende la posta niente quindi che dirvi questa roba perché è un corretore tutto cioccioso vabbè allora come prima cosa volevo dirvi che da con avanti ho deciso di fare video trucco perché a me i video trucco piacciono tantissimo e quindi lo so che voi mi dite che non sono capace per truccarmi però non vedo perché non mi devo truccare quindi mi trucco lo stesso niente ragazze i ragazzi miei allora la luce non è il massimo come sono però questo è e questo ritengo di luce dovrei mettermi di fronte alla finestra ma non è il massimo e quindi niente allora poi volevo fare anche video preferiti del mese e anche pubblicherò e niente vi stavo caricando un video prima ma non so se carica anzi ve l'ho già fatto e pubblicato ma mi so perché ma l'interessentimento che ve lo devo caricare non di notte di giorno ma di notte perché me l'ho guardato di notte il video questo è proprio il mio cavolo di motivo ma vabbè dettagli e niente ho capito che siete più disposto a guardarlo di notte il video se donne così pazienza ve lo carico allora che pare a me e niente a oggi mi ho utilizzato quella doccia questa acqua profumata qui il tesoro di rientrata verde e verbena questa qua che non si vedrà mai niente ma ve la metto così ecco e nulla e come trucco perché non mi sono truccata l'ho fatto solo queste ho utilizzato questo della brown artist l'oreal con la mina retraibile e il pettinino questo qua questa matita qua per fare le sopracciglia poi come gel fissante per le sopracciglia ho utilizzato questa qua perché sono le mie sopracciglia non c'è diverso si afflosciano si diventano insomma non restano fisse quindi per fissarle diventano le provo a fissare io con questo prodotto della cos'è questo della tag la stula non so come cavolo si dica però questo è per la taglas adesso non so ancora molti dicono douglas e altri dicono douglas poco importa è importante truccarci e divertirci a truccare poi ve lo faccio vedere per l'unesima volta che intanto me ne do una bella passatina di colorito in combo allora in combinazione con questa della rimel essence e rimele sensi netto sia questa qualche più scuretta e posta che un po più chiara ora vi allontano un po e vedete la differenza meglio questo vedete un po questa è più scura questo è più chiara la mischia un po con questo pennellozzo qua della pink panda e faccio una bella come si può dire un bel remix come si può dire una le mischio e poi me li passo su tutto il resto del riso poi come correttore non sto utilizzando perché colla tutto qua come se non ci fossero domani o intanto utilizzo ma non sempre perché vi dico già che colla tutto e quindi no non ce lo posso fare anche se utilizzo questo che ancora non l'ho aperto vi giuro che non l'ho aperto vedete che c'è ancora l'anti taccheggio per non essere preso senza essere pagato non so come si dice non mi riemento il termine specifico perché sapete quando registro a me non vengono mai termini specifici il sinonimo esatto per non parlare a strafalcioni però questo è il mio video quindi pazienza comunque niente questo è l'anti taccheggio questo qua e con questo antitaccheggio ancora non l'ho utilizzato ma non perché c'è questa cosa qua perché col caldo che fa non mi ci metto nemmeno a truccarmi perché fa troppo caldo ragazze e già tanto si metto un filo di mascara quando si quando mi va a me e poi di questa terra bronze ma il resto ciao proprio va bandito anche il fondo d'intero bandito perché non ce la faccio giuglio e c'è troppo caldo o anche c'è troppo vento e ma non fa non ce la posso fare e lui poi come come pennello non come pennello come biondi blender che sto utilizzando anzi è un po ziozzosa devo lavare ultimamente sa qua della eofitra e fa un motivo bel lavoro perché quando non voglio diventare troppo mascherone questa arriva a come dire a lavorare bene sia il correttore che il fondotinta e fa un ottimo lavoro infatti c'è me lo fa picchiettare bene io già non so capace picchietta l'amelo con le mani ma questo quando vado a fare tutto me lo fa un ottimo lavoro lavoraccio siamo che è buono poi altro sì ciao fondotinta altro profumo che vado a utilizzare per enfatizzare fare più l'odore e il profumo anzi della doccia utilizzo questo qua della anna blumarine tra tra anna blumarine e tesori da niente e mischio tutte e due faccio una miscela di profumi la metto sia un po sui capelli per fare il bagno del profumo già che ci siamo e poi un po anche sui polsi e dietro le orecchie che non è male per niente è sicuramente top mi stava cadendo tutto molto bene e niente quindi come fondotinta ve l'ho detto non sto utilizzando niente ve lo ripetisco questo qua lo stavo utilizzando fino a qualche giorno o mese fa sì però questo dell'essence non lo utilizzo per un bel po finché non torna un po finché non si rinfresca un po la stagione perché sinceramente io non ce la faccio come maschera invece in questi giorni non sto utilizzando sennò che altro che questo della rimmel che ha delle una bella impregnatura di di maschera c'è lo scuola bellissimo c'è bellissimo è bello è comodo e non mi sporco tutte le cilie inferiori dell'arima inferiore dell'occhio perché questo è importante che non mi devo sporcare tutta ogni volta ogni qual volta vado a mettermi il mascara già questo è lo scuola io e nulla me le pelle me la chiappa tutte bene e non mi sporco tutta e soprattutto me le lavora bene maschera va a fare un ottimo lavoro del prodotto insomma me le incurva bene perché già io ce le ci sia un po non proprio sfigate perché non è così però le ho ogni tanto mi vanno giù e io quando anziché usare questo arnese malefico che sarebbe questo le piegaciglia prima le pettino col pettino che ne ho uno qua da queste parti non so dove l'ho messo non ne ho idea sarà da queste parti comunque vado a prendere un pettino e le pettino bene e poi ovviamente metto un po di mascara tutto lì come mascara metto sempre questo che ho fatto a vedere io questo qua della rimmel che è 003 volume estremo black se nero molto molto buono non è vero che certi maschera non fanno nulla dipende dalle ciglia che avete voi è vero se avete molte pretese da mascara allora vi consiglio altri tipi di mascara che fanno per voi ovviamente che se sentite le esigenze di un mascara che vi aiuti a migliorare la situazione delle vostre ciglia poi cosa devo dirvi come burro cow io non so dove l'ho messo adesso mi pare che l'ho messo di là si in borsa ma adesso non vado a rifiutarlo perché sicuramente non mi va ma man mano che lo vado a prelevare al prossimo video ve lo faccio vedere comunque quello lì sempre labbro sun defense presa sapore nei profumi e anche quello non è male è molto buono con il burro cacao labbro insomma balsamo labbra uso sempre quello che vi ho fatto vederne get ready with me ne mi preparo con voi quando ci prepariamo tra di noi per andare a fare la spesa o che sia lavoro eccetera io uso sempre quel burro cacao perché mi ci trovo molto molto bene bene ragazzi adesso io ricarico quell'altro video ve lo metto il pubblico e non taggo nessuno perché tanto se volete anzi lo pubblico stasera o lo pubblico adesso vediamo mi decido un po come voglio fare poi decido un po se voglio caricarlo o adesso o stasera perché ho visto che c'è più visibilità stasera non so visibilità per dire c'è più disponibilità di guardarlo la sera prima di andare a caricarsi o durante la notte non ho capito ancora come voi siete organizzate con i video e guardate degli altri o i miei ma va bene lo stesso importante che mi mi aiutate con le visuole così vabbè non è che me ne fregate le visuole non mi interessa più fissarmi giuro giuri giurello però se vi interessa aiutarmi non mi dispiacerebbe affatto quindi ciao e ci vediamo al prossimo video dopo di questo perché carico prima quello poi questo lo ricarico rinuovamente di nuovo ciao bacio ah mi ero dimenticata scusate allora questo video lo chiamerò non più video che criccio ma anziché video che criccio beauty del mese perché ho deciso di come si dice ovviamente sì vabbè l'avete capito di partecipare anche io al progettano che sta cominciando che ho concetto mesi o anni come dire carolina buonanni scusate mi stiamo un po intertagliando stavo pensando altro ma non so cosa ma va bene comunque questa è la mia beauty del mese anche se c'è altra roba dentro non importa ma quello che andrà attualizzare mese dopo mese andrò a farlo vedere anche nei giorni a prescindere anche da oggi o domani e farò un beauty del giorno anziché del mese più del giorno per vedere quante roba risca fine anche dalle palette che io da questa parte qui sto guardando di qua da sta parte e farò un beauty del genere del giorno scusate ci sono più niente va bene vi lascio e ci vediamo dopo in un altro video che caricherò che ricarico da capo se riesco perché prima si è caricato adesso l'ho cancellato chissà per quale spirito mi è venuto a me l'ho cancellato vabbè lo ripubblico dai prima carico poi lo ripubblico ciao vi lascio